Quarta giornata Super Cup 0-0 ancora tra le strane a fabbricato e i Diablos Partita molto combattuta Faccio le munizioni Adesso per gli strane a fabbricato Pallone l'uomo con gli occhiali Il tiro ed il gol, grandissimo gol Dell'attaccante 1-0 quindi per gli strane a fabbricato Grandissimo gol Sotto di un gol Damato sul pallone si ripeterà questa battuta Il tiro Palla laterale a favore dei Diablos Palla in avanti troppo lunga Di Piccarello Il Piccarello Il quarto non gli sta neanche a fabbricato Quindi una messa laterale Pallone l'uomo con gli occhiali E' un'ultima azione Pallone l'uomo con gli occhiali 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 Pallone l'uomo con gli occhiali